abbiamo il piacere e l'onore di ospitare paola perego negli schermi di cilento channel questa sera al settembre culturale al castello ecco un libro molto interessante paola perego si racconta racconta le paure passate più di 25 anni ecco di paure paure rinchiuse in se stessa che l'hanno spinta insomma a scrivere appunto un libro e ad aiutare anche altre persone e allora che cos'è che ti ha dato il là per scrivere un libro così forte comunque in un certo senso perché racconta della tua vita del tuo io interiore guarda principalmente perché gli attacchi di panico in cui in italia ne soffrono tre milioni di persone e chi soffre di attacchi di panico se ne vergogna perché si pensa di essere deboli perché non si riesce a superare questo disturbo perché in realtà fisicamente normalmente dicono che non hai nulla quindi dipende da te e non è così per cui volevo portare la mia testimonianza sperando che molte persone che ne soffrono abbiano il coraggio di dirlo e di curarsi perché dagli attacchi di panico se ne esce e questo è il messaggio importante secondo me che bisogna dare ecco tu sei stata una donna molto forte il titolo del libro è dietro le quinte delle mie paure ma se andiamo un attimo ad analizzarlo Paola Perego è una donna una donna che la vediamo spesso in tv che la vediamo spesso insomma in salotti televisivi ecco come hai fatto a subire ma allo stesso tempo a subire per quanto riguarda lo stress psicologico ma allo stesso tempo a dare una prestazione comunque ottimale in televisione ottimale fino a un certo punto perché per anni mi hanno detto che ero fredda e distaccata in realtà io andavo in onda sotto farmaci per cui era no l'unico modo per riuscire a lavorare era curarsi quindi quando io prendevo dei farmaci che mi tenevano a bada gli attacchi di panico e sotto controllo medico naturalmente allora riuscivo a fare tutto e se no non sarei riuscita nemmeno ad uscire di casa quella è l'unica cosa perché io consiglio sempre per quella che è la mia esperienza perché tecnico non sono di curarsi con i farmaci laddove gli attacchi di panico dovessero limitare proprio la quotidianità ma fare psicoterapia per capire da dove arriva il problema ecco queste problematiche oggi le avvertiamo anche in giovanissimi nel tuo libro consigli di parlarne ecco di non nascondersi che cos'è che vogliamo dire soprattutto ai più giovani anche perché la depressione l'ansia gli attacchi di panico sono il male del secolo e sono soprattutto invalidanti quello che io voglio dire a tutti è che non si è deboli se si ha gli attacchi di panico e non si riesce ad uscirne da soli non è vero non è una questione di debolezza per la mia esperienza è una questione di sensibilità però sfido qualunque medico a smentirmi perché chiaramente io parlo della mia di esperienza però ditelo non è debole chi ha gli attacchi di panico tutt'altro e non riuscire ad uscirne da soli è normale come se vi dicessero quadrisci da un'infezione da solo no devi prendere l'antibiotico e la stessa cosa vale per gli attacchi di panico per cui non vergognatevi ditelo e curatevi quando ti sei accorta che però è finito tutto cioè che sei ritornata Paola quando ho cominciato a dimenticarmi delle medicine una mattina due tre ho detto oh caspita sono tre giorni che non li prendo e lì ho capito che ormai ne ero fuori c'è stato qualcosa che ti ha ti ha fatto scattare la molla oppure non c'è una cosa che ti fa scattare la molla è la conoscenza di te è psicoanalisi adesso è fatica sedute cercare di capire qual è il mostro chi è cosa ti vuole dire perché non lo ascolti e poi così ne esce un saluto da Paola Perego e Cilento Channel